Pronto? Non siamo gruppi, non abbiamo rapporti sessuali con loro Sono Pompini, nient'altro In viaggio con il gruppo Hai chiamato tua madre? Delle rock star hanno rapito mio figlio L'umore alle stelle Hanno messo l'acido nella birra dei boccali rossi Come si capisce quando fa effetto? Sono un dio donato! L'inocenza si trasforma in libertà Decloriamo il ragazzino Ci serve il pezzo, entro quattro giorni E' arrivato il tuo momento! E c'è molto di più da raccontare a casa C'è William per favore Sei Mary Ann con l'erba? Oltre alla musica Che cos'è che ami della musica? Tanto per cominciare Tutto Moriremo Se dovesse succedere qualcosa forse non ve l'ho detto abbastanza Vi voglio bene Mi sono fatto marla Dì sì anch'io Anch'io Io sono Gray Ma non hai qualche amico normale? Le persone famose sono più interessanti Come si Allora